Sambucete e Capistrello appollaiate a quota a 7 punti cercano la vittoria per uscire dai bassi fondi della classifica. Ronci sfodera il tridente Barrov, Miciche e Bluni e lascia in panchina Pellecchia. Giordani si affida all'esperienza del suo capitano De Meis. All'estero di De Roccis e alla qualità di Aquino. Pronti via il Sambuceto, si complica subito la vita. Errore in uscita, De Meis innesca di Girolamo che prova il tiro a giro. Dedeo si fa trovare subito prontissimo. Ancora il numero 1 di casa, protagonista al minuto 15, combinazione De Roccis-Aquino. Conclusione che il portiere sventa. Al minuto 21 trova il vantaggio il Capistrello. Parte tutto da un retropassaggio velenoso di Camplone che porterà anche all'ammunizione di Carrascosa. batte Aquino, deviazione della barriera. Ededeo battuto. Si scuote il Sambuceto al minuto 23. Bruni, conclusione che il portiere ospite blocca. Nuovamente Bruni innesca, questa volta Camplone. Conclusione che viene respinta da Di Girolamo. Minuto 29, combinazione Karo Barrov che porta alla conclusione Mici che da posizione defilata. Ancora una volta il portiere Rovetano respinge la minaccia. L'ultima azione del primo tempo è di marca Rovetana. De Meis per Aquino. Il centravanti apparecchia per Deramo. Conclusione a botta sicura. Dedeo respinge sulla ribattuta. Il centravanti calcia alto. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa. Ronci manda subito in campo. Pellecchie Carrieri in luogo di Barro e Caro. 120 secondi e Bruni va vicinissimo al pareggio. Conclusione sul fondo. Si alza il pressing dei Viola. Minuto 11, Marfisi, Pennella per la testa di Mici che da buona posizione. La sua incornata però è troppo centrale. Facile di Girolamo. Ripresa non bellissima. Il Capistrella addormenta la gara. Al minuto 35 trova il raddoppio nuovamente su una disattenzione difensiva dei locali. Aquino a tu per tu con Dedeo. Non sbaglia e insacca. Mister, due vittorie in quattro giorni. Ma soprattutto quella di oggi. Venire qui a San Buceto e fermare la formazione Viola non era semplice. Eppure avete disputato una gran partita e portato a casa tre punti meritati. Sì, è vero. Abbiamo merito i ragazzi. Abbiamo preparato la partita e ci è riuscito in pratica tutto quello che avevamo preparato. Siamo andati a prenderli alti. Sapevamo che loro sono una squadra che ama giocare da dietro. Quindi ne siamo andati a prendere alti con un grosso pressing. Abbiamo fatto un grosso primo tempo dove forse il punteggio poteva essere superiore dell'1-0. Poi naturalmente nel secondo tempo un po' è uscito anche. Abbiamo sofferto giustamente quei 20 minuti che c'erano da soffrire. E poi insomma siamo andati abbastanza bene. Grosso merito i ragazzi che si sono applicati bene durante questo periodo negativo. E abbiamo capito che cosa significa giocare con l'atteggiamento giusto. Sì, il primo tempo non abbiamo fatto bene per niente. La responsabilità era mia. Ho detto ragazzi che la colpa era la mia. perché non abbiamo giocato a calcio. Abbiamo fatto sulla zona del primo gol che abbiamo subito una serie di errori tecnici. Un retromassaggio sventurato che ha portato a scendere da questo. Però il Capistrello poteva fare anche il secondo gol. Non abbiamo fatto bene per niente. La colpa me la prendo io. La responsabilità me la prendo io. Il secondo tempo abbiamo cambiato e abbiamo ripreso a giocare a calcio. Abbiamo fatto bene. Sul piano del gioco siamo arrivati lì vicino. Abbiamo avuto una palla clamorosa con Bruni. Se fa gol cambia il tipo di partita. E lì la potevamo anche vincere. Invece poi abbiamo messo il Capistrello nella propria metà campo. Il momento migliore nostro. Abbiamo fatto un altro errore difensivo. E hanno raddoppiato. Ripeto, un momento complicato. Io non molo di un centimetro. Sono convinto che questa squadra alla fine arriverà dove vuole. In questo momento è così. Bisogna stare tranquilli. Ma allo stesso tempo dare qualcosa in più a tutti quanti. Questa è una squadra che deve solo e sicuramente giocare a calcio. Nel momento in cui pensiamo solo a difenderci. Noi prendiamo gol da chiunque. Quello è quello che è perso. Quello che ho detto ai ragazzi. Che noi dobbiamo giocare a calcio. E sono convinto di questo. E sono convinto che questa è una squadra che è costruita anche per giocare a calcio. Poi è chiaro che questa è la quinta partita. Un tour de forze incredibile. Non c'è modo anche mai di allenarsi. Si gioca ogni tre giorni. Adesso per la prima volta riusciremo a fare una settimana intera. cercando di recuperare più possibile le forze per la partita di domenica. Ci aspetta un'altra partita difficilissima. Però, ripeto, dobbiamo cercare di uscire da questa situazione tutti quanti insieme. Ma giocare a calcio.